Gesù amabilissimo. Oggi ti presentiamo le necessità delle anime del Purgatorio. Esse soffrono tanto. E desiderano ardentemente venire a te. Loro Creatore e Salvatore. Per restare con te in eterno. Ti raccomandiamo. O Gesù. Tutte le anime del Purgatorio. Ma specialmente quelle che sono morte improvvisamente per incidenti. Infortuni o malattie. Senza poter preparare la loro anima. Ed eventualmente liberare la loro coscienza. Ti preghiamo anche per le anime più abbandonate. E per quelle che sono più vicine alla gloria. Ti scongiuriamo in modo particolare. Di aver pietà delle anime dei nostri parenti. Amici. Conoscenti. Ed anche dei nostri nemici. Per tutti intendiamo applicare le indulgenze. Che ci sarà possibile acquistare. Accogli. O pietosissimo Gesù. Queste nostre umili preghiere. Te le presentiamo per le mani di Maria Santissima. Tua Madre Immacolata. Del glorioso Patriarca San Giuseppe. Tuo Padre Reputativo. E di tutti i Santi del Paradiso. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. e allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.